Sepino è un comune molisano della provincia di Campobasso, i cui abitanti sono detti sepinesi e la cui patrona è Santa Cristina. I tetti in coppi, visti dall'alto della strada che porta le terme e il campanile a cipollino in ferro battuto della chiesa di Santa Cristina, introducono a questo borgo, posto sulla prima balsa di un colle, alle pendici dei monti del Matese. Nel nome di Sepino è racchiusa una storia millenaria che inizia con la pratica sabbina del Ver Sacrum, la primavera sacra, una ricorrenza rituale di origine arcaica praticata poi da diversi popoli dell'Italia antica che comportava la deduzione di nuove colonie, ossia la fondazione. Poi con la prima palizzata sannitica che recintò il villaggio, quindi con la fortezza espugnata dai romani, cui seguì il nuovo assetto municipale dato dai conquistatori, che riedificarono la città più a valle, all'incrocio tra un grande tratturo ed uno secondario, perché Sepino era soprattutto un luogo di passaggio, di ricovero delle greggi e un posto di mercato. Della monumentale città romana rimangono le rovine dell'area archeologica, che da sole meritano il viaggio sin qui. I pastori, dalla distruzione di Altilia a pochi decenni di anni fa, sono stati gli unici a passare con le greggi nella città morta, fantasticando tra i ruderi. Circondata dai boschi, la nuova Sepino ha balconi da cui pensano geranei, muretti cui si aggrappa alla parietaria, fili di bucato stesi al sole e il profumo dei soffritti che esce dalle finestre socchiuse. Sepinum deriva da Saeptum, ossia recinto, per l'esistenza in epoca sannitica di una palizzata di legno che chiudeva l'area destinata agli animali lungo il tratturo. Del 600-500 a.C. è il primo stanziamento, ad opera dei sanniti della tribù dei Pentri, giunti dalla Sabina in seguito alla pratica del Versacrum, la primavera sacra, come ho già detto. Infatti, dopo ogni guerra o carestia, era abitudine dei Sabini consacrare al dio Marte i figli nati in quell'anno, con la promessa che, raggiunta la maggior età, avrebbero cercato nuove terre, guidati da un toro, stabilendosi dove l'animale si sarebbe fermato. Fu così che qui i pastori sanniti costruirono una palizzata di legno a racchiudere l'abitato, che poi spostarono più a monte, trasformandolo nella roccaforte di Terra Vecchia. Nel 293 a.C. Terra Vecchia fu espugnata dai Romani durante la terza guerra sannitica, dopo una battaglia in cui persero la vita ben 7400 sanniti. I sopravvissuti si spostarono a valle, riorganizzando l'abitato ai margini del tratturo Pescassero di Candela. Nel 91-88 a.C. Silla spense le ultime resistenze dei sanniti, imponente alla cittadinanza romana agli abitanti del municipio di Sepinum, in base al censo e iscrivendoli alla tribù dei Voltini. Tra il 2 a.C. e il 4 d.C. il centro urbano venne circondato da mura, torri e porte. Nel 667 i duchi Longobardi cedettero la piana ad una colonia di Bulgari e risale forse a questo periodo il nuovo nome della città Altilia dal germanico Alt, cioè antico, e Teil, cioè parte. Nel 882 Altilia fu definitivamente abbandonata a favore di una posizione più a monte, a riparo dalle incursioni saracene. Nacque così il Castellum Sepini, l'attuale borgo. Nel 1024 il normanno Rodolfo occupò con il suo esercito la contea di Boiano, cui apparteneva anche Sepino, che diventò poi una baronia nel ramo cadetto della famiglia De Molisio, la famiglia alla quale si deve anche il nome della regione molise. Nel 1566 Scipione Carafa acquistò da Giovanni Conte di Altavilla la baronia di Sepino. Infine nel 1740 una nipote di Francesco Carafa portò la baronia in dote alla famiglia Dei della Leonessa.